100 milioni di euro, non più tardi di due stati fa, l'Inter non può permettersi un investimento corposo in attesa di capire cosa succederà sul fronte societario, però ecco, sono segnali importanti che Lukaku è ancora un giocatore da Inter, non è un giocatore finito come qualcuno, non in casa Inter, però qualcuno aveva etichettato. Molto interessante questo aspetto, ci sono un sacco di rinnovi ovviamente che riguardano l'Inter e che riguardano tanti giocatori dell'Inter, quindi Fede ti chiedo di fare un mini quadro anche per capire, se non sbaglio sono 6-7 più o meno, tutti da rinnovare, anche sulla base delle parole di Marotta di questa sera, con cosa ci dobbiamo aspettare anche lato prolungamenti di contratto. Ma sì, sono molto chiare le parole di Marotta, perché bisogna considerare quelli che sono i costi, ci sono dei giocatori che tra l'altro sono arrivati al capoline dell'avventura Inter, di questi giocatori Brozovic, Dumfries, che non hanno il contratto immediatamente in scarenza, però sicuramente da considerare, invece i giocatori che, tra i giocatori ovviamente in uscita c'è anche Samir Andanovic, per il quale insomma non ci sarà un ulteriore rinnovo del contratto, per quanto riguarda invece i rinnovi, vogliamo essere anche positivi questa sera perché è una serata importante per l'Inter, c'è la Noglu, ha di fatto rinnovato, dopo Darmian si aspetta insomma di ufficialità, però c'è l'accordo di massima con un contratto fino al 2027, con un ingaggio a salire fino a 6 milioni di euro, quindi un ritocco importante. La grana più grande al momento è quella rappresentata da Bastoni, perché Bastoni già la scorsa estate era un giocatore che aveva tanto mercato, piaceva al Manchester City, piaceva molto al Tottenham di Conte, poi è chiaro che Conte è destinato verso altri lidi, difficilmente a restare al Tottenham, quindi possiamo anche spegnere la pista Tottenham, però è un giocatore Bastoni che ha tanto mercato e insomma il suo agente è stato lo scorso giugno, Ale lo sa bene, in serie all'Inter per parlare di rinnovo, gli è stata fatta una promessa, ma l'Inter non può permettersi di spendere troppi soldi in questo momento senza le cessioni, quindi c'è stato un nuovo, è stato posticipato ancora di fatto l'incontro per rinnovare il contratto e questo insomma Bastoni non l'ha preso benissimo. A fine stagione ci sarà il punto, verrà fatto il punto, ma al momento non è così scontato il rinnovo di Bastoni. Il rinnovo più vicino è quello di Cialanoglu per Bastoni-Lukaku, credo che bisogna aspettare qualche settimana. Fede, sfrutto anche la domanda che ci fa Salvatore Balsamo in chat, ci chiede, ma Icardi-Milan è vero? Cioè sull'attaccante del Milan cosa possiamo dire? Allora Icardi-Milan è vero, nel senso che è un giocatore che il Milan continua a monitorare perché sappiamo molto bene che il Galatasaray può riscattare Icardi al termine della stagione spendendo circa 15 milioni di euro, Icardi che sta facendo bene soprattutto in quest'ultima parte di stagione al Galatasaray perché di fatto era un giocatore in uscita all'inizio di gennaio e poi ha iniziato a fare gol, gol importanti anche nel derby contro il Fenerbace. È un giocatore che è sulla lista del Milan, è chiaro che è un giocatore diverso da quella che è la filosofia del Milan degli ultimi anni perché è un giocatore che è un classe 93, se non vado errato, non è il giovane sul quale poter investire dei soldi, però è un nome che va considerato perché Icardi vuole tornare in Italia, sa bene a Istambulo ma chiaramente la superlega turca non è ai livelli della Serie A, è uno dei nomi da considerare tra l'altro i suoi agenti, i suoi entourage lo stanno proponendo in Italia, l'avevano proposto alla Roma la scorsa estate, adesso sono tornato a proporlo al Milan e il Milan al momento lo considero come uno dei candidati, è chiaro che ce ne sono altri, su calcioverato.com abbiamo scritto per esempio di Reteghi, questo ragazzo del Tigre molto valido, è un classe 99, sicuramente non è pronto come Icardi, attenzione anche al profilo di Scamacca soprattutto se l'USM non dovesse restare in Premier League, questo è il momento terzo ultimo, insomma se dovesse retrocedere in Championship sarebbe clamoroso, Scamacca unico giocatore che potrebbe tornare in Italia ed è un giocatore che comunque piace molto a Massara. Fede io facciamo la serata Inter giustamente, ha giocato l'Inter? Sì ha giocato l'Inter, sì si è proprio la serata Inter, non possiamo sbagliare, ti chiedo di José Mourinho oggi ha parlato, ha detto una frase abbastanza disorientante per i tifosi della Roma, in realtà neanche troppo disorientante nel senso ha detto le intuizioni di chi dice che rimarrò, non sono mie. Che cosa ci dobbiamo aspettare da José? La sua potenziale permanenza o addio? Se non sbaglio contratto scadenza 2024? Sì sì, ancora un anno di contratto. Ancora un anno di contratto ma sapete molto bene che José Mourinho decide il suo futuro indipendentemente dai contratti. Per di più un allenatore che ha ridato lustro la piazza romanista, un allenatore che ha dato credibilità ancora di più alla Roma vincendo una coppa e comunque riportandolo a lottare per le posizioni che contano in Europa e in Italia. Lui fondamentalmente si aspetta un progetto vincente il prossimo anno. Ok, è stato un progetto di crescita, è vero la Roma ha bisogno di step, però è anche vero che è arrivato il momento di fare quel passo in più per permettere alla Roma di competere per lo scudetto e si augura alla Roma ovviamente la Champions League se dovesse chiudere tra le prime quattro. Quindi si tratta proprio di progetto, di investimenti, altrimenti insomma ve l'abbiamo raccontato anche noi in queste finestre con voi, ci sono club interessati, tra questi club c'è anche il Chelsea che comunque con Potter non è sicuro di andare avanti. Si aspetta di avere tratto delle risposte non troppo in là, quindi credo ad aprile o comunque non più tardi della fine di aprile perché lo stesso Murigno ha alcuni colleghi e ha detto che non può aspettare il termine della stagione per avere un confronto con Friedkin. Il progetto vuol dire investimenti in tutti i reparti, vuol dire la conferma di Paolo Di Bala che insomma anche l'argentino qualche giorno fa non si è espresso in maniera, non dico favorevole, però non ha voluto assicurare la sua presenza a Roma anche il prossimo anno. Bisogna dare delle risposte forti, le risposte forti le deve dare la società. Non è piaciuto per nulla a Murigno la gestione sia del caso Zaniolo sia del caso Karlsdorp. Beh dire che abbiamo fatto un gran punto e tra l'altro ci lanci un argomento di cui possiamo anche discutere sulla questione Murigno-Roma. Intanto grazie Federico Zanon. Grazie a voi, ciao ragazzi, a presto. Ciao, ciao, buon lavoro, ciao. Buona serata. Ti posso lanciare uno spunto? Sì, questo mi sembra forte, comunque io ne parlerei. Allora, aggiungo un'altra cosa. Oggi avrei sicuramente sentito. Bu dice a cambiasso, sai che ti vedo allenatore. Sei un grande opinionista ma in realtà secondo me sei... tutti abbiamo pensato. Allora.